Da 30 anni che abbiamo questa attività, l'abbiamo fatta per i nostri figli, per avere un avvenire per l'indomani. Ho tre figli, però una già si è sposata e non lavora più qui, due lavorano qui con me. Io la aiuto un poco perché ormai ho una certa età, di più lavorano loro. Come produzione facciamo diversi tipi di biscotti, in più quello castriciano che è proprio tipico del paese, che dopo tanti anni che si era fermato abbiamo di nuovo ricominciato per uscirlo di nuovo sul commercio. E così ci siamo riusciti e da 30 anni ne lo facciamo. Facciamo anche pasta, maccheroni, pasta in casa. Facciamo anche delle cotoniate, delle marmellate, marmellate fresca come tipo la mostarda, poi facciamo il riso nero per Natale. Un lavoro che a me piaceva fare questi dolci, questi biscotti, l'ho proprio imparato io, da me avendo tante ricette, l'ho rifatti finché ci sono riuscita.